Facciamo questa nuova esperienza con il green screen. Buon fine anno a tutti siamo arrivati in fondo a dicembre quindi questo mese farò due video sui miei investimenti anziché uno perché faccio così perché vorrei proporre insomma gli investimenti di dicembre adesso che siamo arrivati a fine anno e non l'anno successivo questo comporterà una piccola variante però insomma preferisco fare così anche per fare una sorta di piccolo discorso di fine anno e insomma parlare a parte degli investimenti anche un po' di quello che è successo sia sul canale che proprio sugli investimenti in sé come è andata quest'anno e a che punto sono arrivato. Piccola variante di questo video ovviamente come vedete alle spalle il green screen questo qui è stato un regalo che mi è stato fatto dalla mia dolce metà che finalmente riesco a sfruttare perché sono a casa altrimenti quando sono in giro sta cosa non si riesce a fare. Allora in questo episodio vorrei partire come prima cosa dall'azionario perché siamo arrivati in fondo oggi è sabato quindi il mercato è chiuso domani è capodanno il mercato è chiuso l'uno è chiuso e quindi diciamo che oramai abbiamo chiuso il libro per quest'anno e quindi qual è stato il resoconto di quest'anno così insomma movimentato così agitato per quanto riguarda l'azionario? Allora come sapete ho avuto a parte inizio anno che mi è andata abbastanza bene quindi ho avuto una bella un bel guadagno insomma sull'azionario quindi compravendi azioni dove ho avuto insomma un guadagno di circa 1200 euro 1150 euro dopo vi faccio vedere a grafica adesso che ce l'ho direttamente tutti gli screen che servono però c'è stato dopo a causa del conflitto un abbattimento fortissimo dell'azionario infatti c'è stata una perdita da parte mia molto molto grande e presumo anche da parte di chi di voi insomma fa investimenti azionari però c'è stato questo fine anno molto molto in ripresa e infatti da che ero in fortissima perdita nel senso che ero in circa un 12 per cento 12 e mezzo per cento in perdita mi sto ritrovando in questo momento sto chiudendo con l'1 e 74 per cento di guadagno con 367 euro 83 lordo che comunque sono non sono uscito quindi sono ancora mercato però insomma sto chiudendo l'anno oltre che guadagni che ho fatto durante l'anno con la compravendita quindi soldi che ho ufficialmente sono ufficialmente uscito dal mercato quindi sono in tasca mia adesso ci sono i soldi anche questi qui che per fortuna attualmente sono in positivo però c'è da fare delle precisazioni allora sull'azionario in sé soltanto un'azione in questo momento c'è la positiva che è azimut era scesa fortemente poi si è ripresa tantissimo infatti adesso ciò circa un più 4 per cento di guadagno un più 4 per cento che alla fine si ricava in un circa 75 euro di guadagno le altre azioni invece stanno andando piuttosto male nel senso che o erg che è la l'azienda con cui ho investito di più quindi circa 5.000 euro è quella che ha avuto uno sprofondamento maggiore rispetto alle altre e invece adesso si sta per fortuna riprendendo è ancora fortemente in negativo però la tendenza è molto rialzista infatti da che era l'ultima delle ultime adesso ha superato per perdita nel senso che ha meno perdita di amplifon quindi diciamo che il suo valore si sta riprendendo e questo sta agevolando un pochettino questa ripresa ma allora come faccio ad essere in positivo nonostante che ho soltanto un'azione che è in guadagno rispetto alle altre che sono in perdita è anche abbastanza pesante è i share quindi l'azionario globale si sta riprendendo fortemente infatti mi ritrovo con un più 12 per cento di guadagno che si traduce in 1235 euro quindi va a compensare l'azionario che attualmente ce l'ho in negativo e mi sta facendo fare un guadagno di 367 euro ad oggi ovviamente sono molto dispiaciuto che erga abbia avuto questa discesa così importante però in realtà se vado a vedere lo storico del grafico la discesa è proporzionale alle altre discese che ho avuto nel tempo quindi mi sono semplicemente messo a mercato nel momento più sbagliato possibile come ogni tanto può capitare in realtà però sta cosa mi è capitata quattro volte perché su cinque azioni che ho in portafoglio ne ho quattro in cui mi è capitata esattamente la stessa cosa è anche vero che tutte le azioni sono scese più o meno nello stesso momento quindi non è che ho avuto delle sfortune una dietro l'altra semplicemente era tutte le sfortune erano agglobate insieme quindi sono scese però mi immagino che anche molti di voi che magari avete dei soldi sull'azionario singolo vi siate ritrovati nella stessa condizione salvo che non abbiate ferrari o comunque insomma quelle poche azioni che hanno avuto un incremento importante nel in questo periodo molto difficile è vero che ci sono state anche delle azioni che hanno performato molto bene io parlo sempre del mercato italiano e poi dopo c'è anche la stessa cosa sul mercato di altri paesi adesso io faccio solo riferimento per quello in nazionale per quanto riguarda ovviamente l'azionario globale invece quello lì è stato gestito evidentemente molto bene infatti la perdita che ha avuto è stata tutto sommato abbastanza contenuta e la ripresa è stata piuttosto importante sicuramente perché nei share la maggior parte delle azioni fanno riferimento al mercato americano che è cresciuto molto molto più ovviamente di quello italiano o meglio anche quello italiano comunque ha avuto una bella una bella rinfrescata però insomma sicuramente i loro investimenti sono più da quella parte e di conseguenza insomma ha ripreso meglio da sto punto di vista sicuramente questa è una bella informazione nel senso che avendolo in portafoglio lo guardo con un interesse maggiore e quindi che cosa succede che tipo invit sicuramente se riesco a ritornare positivo oppure lo chiuderò con un po di perdita quei soldi li sposterò in i share o meglio tenderò sicuramente a fare meno investimenti sull'azionario semplice a meno che non mi capitano proprio delle situazioni golose che a quel punto le provo in caso contrario insomma i soldi che che ho nell'azionario piano piano li sposterò in i share anche se però non vorrei fare insomma un un tutt'uno in un'unica cosa perché mi piacerebbe sempre avere un po di differenziazione so che potrei utilizzare altri etf ma voglio utilizzare anche dell'azionario semplice perché faccio un esempio tipo adesso c'è l'intesa san paolo che è salita fortissimo da quando c'è stata l'anno scorso insomma che è arrivata sotto 1 euro e 90 adesso è a 2 euro e 40 insomma qualcosa insomma che ha avuto una crescita molto importante se riuscisse a ritornare intorno ai 2 euro sicuramente potrei comprarne un po in accumulo non tanto nel senso sperando che poi magari mi ritorni circa 1 euro 80 per avere un piccolo accumulo di questa azione ma semplicemente perché rimane sempre molto costante ed ha dei dividendi molto molto ampi se poi insomma c'è questi exploit che va così in alto diciamo che dal momento che sale ammesso che lo faccia iniziano a mettere degli stop profit in modo da tenere sicuramente salvaguardia il portafoglio perlomeno da oscillazioni importanti in questo momento per esempio su azimuth non ho messo per mento uno stop profit perché si sta avvicinando fortemente al take profit che ho preventivato quello dei 25 euro in questo momento è a 23 euro e 64 insomma con un 4% in più non vorrei mettergli adesso uno stop profit perché un 4% sono azioni insomma che lo fanno abbastanza agevolmente quindi mi piacerebbe provare a dargli respiro vedere che cosa succede nell'anno successivo mentre invece per i share lì adesso non ho un take profit o meglio i share è intorno agli 81 euro in questo momento io sono a media di acquisto di 73 euro ho messo come take profit 100 euro ma non è che l'ho messo perché lì esco intanto lo metto gli do un tetto che se per caso dovesse fare per qualunque motivo cosa che non fa ma se dovesse farlo un picco fortissimo verso l'alto quello me lo prendo e poi dopo rientro eventualmente in discesa questa cosa la dovrei fare anche con altri azionari ma insomma vediamo che cosa viene fuori per il prossimo anno adesso faccio anche fatica ad essere molto obiettivo da questo punto di vista perché adesso quest'anno è stato molto particolare non c'è stato una non è stato congruo tra l'inizio e la fine c'è stato un ribasso forte un rialzo forte quindi insomma faccio fatica a dire esattamente quale sarà il comportamento quello che posso dire è che mi dispiace essere entrato prima del ribasso forte ovviamente perché come dicono in una poltrona per due compro basso e vendi alto ma questo è palesemente ovvio allora vorrei fare una piccola precisazione sul fatto dei guadagni fatti dalla compravendita di azioni questo perché siccome è un po di tempo in realtà anche da qualche anno che provo a guardare un po questo ambiente ho uno storico dei guadagni e delle perdite fatti nel tempo perché la banca mi consente di avere questo storico che parte dal 2014 anno in cui probabilmente avevo aperto il conto con fineco adesso non ricordo mi sembrava prima però diciamo che il 2014 anzi non sono sicurissimo di averlo fatto prima o forse dal 2014 coabilitato il fatto di poter guardare i mercati adesso non ricordo comunque abbiamo il 2014 dove non ho fatto sostanzialmente operazioni quindi non ho nessun guadagno nel 2015 è successa la stessa cosa ovvero nulla perché non ho fatto operazioni nel 2016 invece ho iniziato a fare le prime prove dove ho avuto una strabiliante perdita di 33 euro e 16 centesimi ho fatto delle operazioni piccoline sempre su unicredit il future del bond tedesco sull'oro scusate sul sull'argento sull'euro dollaro insomma ho fatto un po' un po' di prove con una perdita di 33 euro in tutto il 2015 scusate il 2016 mentre invece nel 2017 guarda in basso perché non ho allora ho fatto una perdita di 129 euro e 65 ho fatto solo due operazioni una su tiscali e tiscali tiscali ha fatto perdere molto a tutti e su emotech che non ricordo neanche perché l'avevo scelta probabilmente perché costava pochissimo e quindi l'ho presa perché quella volta facevo delle prove su delle azioni che costavano molto poco per fare effettivamente capire come funzionava quando compra e vendi qualcosa nel 2018 ho avuto una perdita di 216 euro e 7 centesimi anche che io qui invece di operazione ne ho fatte molte di più e sto guardando che sono tutte in perdita quindi molto molto bene ho investito su zucchi, a2a, ema, camplifon, engie, reno de medici, be, poste italiane, unipolsai, served, served ah sì quella ok è un'azienda molto interessante che fanno se non mi sbaglio è quella che se voi avete bisogno di fare una misura camerale un qualche cosa sapere i dettagli di qualche azienda loro vi fanno un controllo molto professionale molto approfondito su questo quindi per chi tratta il business in maniera importante per le compre vendita anche di aziende insomma è una fonte molto molto importante infatti anche quotato in borsa. Italgas, Pirelli, la Gima, Gima, Gima TT che non mi ricordo per niente chi è, BioFrontera mi ricordo chi è, SFC Energy. Insomma ho fatto tutti questi investimenti su su queste azioni causandomi una perdita di 216 euro e siamo nel 2018 nel 2019 abbiamo una perdita ancora di 118 euro e 35 quindi ho avuto diversi anni in cui in realtà ho sempre perso non ho mai guadagnato praticamente niente. Qui ho fatto qualcosina sul Forex quindi New Zealand, cioè il dollaro neozelandese, yen giapponese, il cable quindi la sterlina inglese con il dollaro americano ed è l'unica dove ho guadagnato 6,39 euro. Poi ho fatto degli investimenti sul mini future italiano dove ho perso 30 euro, ENI ho perso 10 euro, SNAM altri 12 euro e ancora sul mini future italiano però il contratto quello di giugno dove ho perso 65 euro. Ecco l'azionario con i future è molto facile a perdere forte quando il mercato ti va incontro. Nel 2020 probabilmente ero molto depresso quindi non ho fatto investimenti, nel 2021 invece abbiamo un guadagno finalmente il primo anno in guadagno con 54,08 euro di guadagno. Ho fatto un investimento su Generali e uno su Best Buy Holding non mi ricordo chi è. Comunque su Generali ho guadagnato 88 euro, su Best Buy ho perso 34 euro quindi con un guadagno di 54,08 euro. E siamo al 2021, 2022 l'anno scorso, cosa che già avete visto anche negli altri investimenti, ho guadagnato 844,41 euro. Ho fatto diversi investimenti dove con dei guadagni delle perdite, ovviamente c'è stata quella su Intesa San Paolo quando si è ripresa fortissima che ho fatto 900 euro dopo l'ho venduta, se l'avessi tenuta avrei guadagnato probabilmente quasi il doppio, senza probabilmente, però insomma non si sa mai e quindi la si vende. Comunque quell'anno ho fatto 844 euro nel 2022. Ora siamo nel 2023 con un totale di 1119,40 euro. Qui gli investimenti sono stati molti di più che sono sempre quelli che vi faccio vedere nel epilogo, insomma, quelli che avete visto fino a fino adesso, quindi non sono mai cambiati e quindi insomma diciamo che sono contento perché le cose stanno migliorando, nel senso che dopo anni di piccoli investimenti, piccoli tentativi, quest'anno sono andato, anche l'anno scorso insomma, sono andato giù molto più forte con gli investimenti e mi sta andando finalmente meglio. Ora non dico che mi va bene perché ho iniziato a capire bene come funziona, perché mi sembra un'esagerazione, so che non è vero, però insomma diciamo che probabilmente sto iniziando ad avere qualche accortezza su come investire, quindi ridurre un po' il rischio, iniziare a mettere un po' di protezione qua e là, mai fatte in maniera aggressiva e perché altrimenti da Erga e da tutti quanti gli altri sarei già uscito quando stavo perdendo 200 euro anziché arrivare molto più in basso, però diciamo che questa è un po' la piccola miglioria che perlomeno sto iniziando un po' a introdurre ed è per quello che non vorrei mettere tutti i soldi su iShare, che per carità fa guadagnare, però anche il fatto di comunque provare a vedere che cosa succede, sono soldi che comunque metti a rischio e qualcosa viene fuori. Tra l'altro considerate che nel vedere i vecchi investimenti avevo fatto anche un acquisto delle azioni invidia quando costavano 55 euro. Va bene, per quanto riguarda i dividendi anche lì non è cambiato niente perché ormai a dicembre non avevo azioni che staccavano i dividendi e adesso vediamo l'anno prossimo quando arriverà la prima metà insomma dell'anno, secondo di come sarà il discorso azionario, se avrò venduto oppure avrò ancora qualcosa in pancia, questo stacco di dividendi che magari mi darà ancora qualcosa aiutandomi comunque ad aumentare il guadagno totale. Quindi siamo sempre a quei 458 euro e 96 centesimi di guadagno da dividendi che anche quelli sono bellissimi perché fanno arrivare circa 1.600 euro di guadagno più ci sono come dicevo prima circa 1.600 euro di guadagno più i 360, questo non sarebbero da contare però dico giusto così perché mi piace finire l'anno così contento, più 367 euro quindi siamo quasi a 2.000 euro di guadagno dal discorso azionario quindi molto molto bene. Ok adesso arriva un'altra parte molto molto interessante quella di Recruit, perché Recruit dopo aver fatto tutto un periodo con dei ritardi pazzeschi quindi senza aver tirato fuori il becco di un quattrino con Recruit per tutto l'anno quasi le vendite si sono sbloccate, si sono sbloccate e quindi si è arrivati a pagare alcune alcune pa 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 quali erano adesso non mi ricordo quelle che sono sono terminate comunque siamo arrivati ad avere 5.718 euro e 52 di investimenti totali quindi e anche qui ho dovuto fare una distinzione perché come stavo conteggiando io i soldi non andava bene perché gli interessi accumulati non combaciavano con quello che effettivamente avevo guadagnato quindi che cosa ho fatto sono andato indietro sono andato a guardare tutti i soldi che ho versato su Recruit e da lì adesso sto guardando quanti sono i soldi totali che sto investendo e faccio la sottrazione semplicemente e come potete vedere io ho messo 5.250 euro lordi nel senso lordi dal conto corrente sul conto di Recruit nel tempo ho fatto più transazioni e adesso mi ritrovo con 468 euro e 52 centesimi di guadagno netto infatti adesso ho 5.718 euro e 52 centesimi di soldi investiti su Recruit e di conseguenza insomma mi sta aumentando abbastanza bene questa tipologia di investimenti finalmente si è sbloccato non tutto perché comunque ne ho ancora due una da 500 una da 302 euro che sono ancora lì in vendita ogni tanto arriva qualche notifica sul fatto che stanno provando in comunque a cambiare le condizioni di vendita per vedere se fosse possibile insomma riuscire a vendere insomma questi questi immobili comunque dai vediamo attendiamo che cosa succede nel frattempo ho aperto altre operazioni e quindi mi ritrovo con 2 4 6 7 8 9 investimenti attivi in questo momento più 2 in ritardo quindi sono 11 investimenti attivi per fortuna su questa piattaforma effettivamente gli investimenti sono ciclici nel senso che funzionano sono parecchi in velocità nel senso che come ne chiudi uno in pochissimo tempo riesci già a prendere un altro o addirittura è già aperto in modo che puoi investire subito come ho già detto io non è che posso non è che posso non è cosa che non faccio perché tanto non riuscirei ad avere una cognizione completa nel senso che vedo il progetto se già loro hanno stabilito che è un progetto valido secondo me è valido punto quindi non è che sto a dire se uno va bene cioè mi piace quella ditta o non mi piace quindi insomma si fa quel che si può adesso con queste due aziende che magari hanno avuto dei ritardi forti anche loro avranno fatto degli errori magari attualmente non l'ho fatto ma una cosa che dovrei fare guardare quali sono le aziende se ripropongono degli investimenti magari potrei evitare di metterli su quelle aziende però diciamo che per ora è una cosa che non sto facendo ma potrebbe essere un buon punto di miglioramento per l'anno successivo bene così siamo arrivati al mensile quindi ora di guardare nel dettaglio tutti gli investimenti che ho fino adesso in essere e come è andato sostanzialmente l'anno quindi facciamo ho fatto una piccola variazione sul foglio di calcolo per vedere quant'è la somma totale che sono riuscito a mettere da parte quest'anno specifico che per quanto mi riguarda è molto molto alta e sono sicuro che il prossimo anno non riuscirò a replicare la stessa cosa dunque partiamo con il dire che finalmente si sono superati anche i 60.000 euro quindi chiudo il 2023 con 61.260 euro e 44 centesimi di investimenti totali quindi sono molto contento ho raggiunto quota 60.000 euro considerando che sono partito da 42.117 anzi diciamo dicembre scorso era 40.587,57 quest'anno ho chiuso dicembre con 61.260 euro e 44 centesimi che per un operaio comunque penso che sia un ottimo risultato allora cosa è cambiato questo mese rispetto agli altri come già vi ho anticipato il fatto che mi sono arrivati finalmente i soldi sul conto di saxo bank per poterli fare gli investimenti quindi i prossimi investimenti probabilmente sull'azionario queste cose qui le farò con saxo bank piuttosto che con fineco lo dico però sapendo quasi di essere smentito nel senso che comunque mi piace farli con fineco anche se mi costicchia un po di più però mi fanno direttamente il mi trattengono direttamente le tasse e quindi non devo fare poi la dichiarazione dei redditi dopo ma questo adesso vediamo il prossimo anno com'è che va comunque inizierò sicuramente a fare degli investimenti anche con saxo bank non li descriverò tutti quanti nello specifico salvo che non saranno cose lunghe perché probabilmente saranno tutte quelle operazioni come vi ho già fatto vedere in alcuni post anche su sui future e quindi sono investimenti molto veloci perché rimanere a mercato sul future è molto pericoloso quindi si tende a entrare e uscire abbastanza velocemente se poi ci sarà dell'azionario nel mezzo perché magari c'è una condizione molto interessante tutto quanto vedo se farlo con fineco oppure no preferibilmente mi piacerebbe più utilizzare solo saxo bank in modo che così ciò tutto quanto lì però in realtà di là è tutto quanto avviato quindi probabilmente il 2024 non finirà ecco nel nel discorso continuerà ad avere la sua la sua validità poi se cosa faccio sposterò tutti quanti gli investimenti su saxo in modo che comunque posso comprare le stesse azioni di la nino lo so perché poco importa insomma magari vedo se posso spostare il dossier tutto quanto di la posso vedere magari proverò a sentire direttamente con la consulenza di ProRealTime per vedere se mi danno magari qualche suggerimento su questo che potrebbe essere interessante in modo che di là la piattaforma specifica per il trading tengo tutto lì insomma però ti dico non lo so non ne sono sicuro anche perché la piattaforma di Fineco non la pago mentre invece la piattaforma di Saxo Bank quella sì la pago di conseguenza se per caso nel 2024 nel 2025 non lo so il fatto di investire in azioni vedo che purtroppo non mi viene cioè non in azioni nei future cose così non riesco ad essere profittevole continuo a non avere guadagni continuo a non avere nessun principio di miglioramento potrei anche pensare di quel conto di prendere i soldi che magari riesco a non perdere riportarli di là e insomma e chiudere un attimo questo aspetto dell'investimento sui future anche perché è molto difficile effettivamente quando lavori riuscire a operare sui future perché purtroppo gli orari non combalzano mai adesso per esempio a gennaio devo andare in Canada in trasferta e lì che cosa faccio quando ho finito di lavorare il mercato è bello che chiuso quasi quindi non riesco ad operare oppure un mese dopo devo andare in bulgaria sto via un mese che per lo stipendio va benissimo però anche lì mi ritroverei probabilmente già più avvantaggiato perché lì mi trovo con un orario più più favorevole magari per poter fare degli investimenti però anche lì non lo so non so come sarà la connessione lì in bulgaria non so non lo so quindi vediamo un attimo anche questo aspetto come si svilupperà nel tempo io confido spero vivamente di riuscire ad essere insomma profittevole riuscire a capire come funziona questo questo lavoro però insomma capisco anche che è bello pensare che andrà tutto bene ma non è detto che andrà tutto bene quindi se non dovesse andare sposterò tutto di nuovo su su fineco e poi chiuderò anche questo libro bene altra cosa allora loro fisico rimasto uguale crowd è migliorato perché ho avuto diverse cose che si sono chiuse e non alzare aperte delle altre quindi abbiamo avuto un bel incremento che eravamo 5521 euro e 47 siamo arrivati a 5718 euro e 52 quindi va bene insomma ci sono un 200 euro circa in più quindi sono i soldi che sono riuscito a riprendere dagli investimenti insomma tutto quello che mi è arrivato 200 euro in più sono fanno piacere direi di proprio di sì i share è rimasto uguale 10.222 euro poi cos'altro abbiamo core pension è aumentata i suoi soliti 60 euro ecco un'altra cosa core pension la pensione allora ho fatto la richiesta per spostare il tfr nel fondo pensione e qui devo dire che ho fatto una bella cazzata nel senso che nella mia ingenuità dicevo io adesso c'ho circa 3900 euro di tfr li volevo spostare tutti in blocco sul fondo pensione e invece non posso io posso spostare soltanto i soldi futuri non quelli già che sono già stati accumulati perché lì effettivamente non so se questo è però è una mia idea siccome ho già preso i soldi quindi il 1,5% più del 75% dell'inflazione tutte quelle menate quindi mi sono stati dati quelli sono soldi che ho già accumulato e non me li possono spostare di là perché lì questa agevolazione poi mi verrà tassata al quello che è insomma quando mi ridaranno i soldi in un futuro e quindi niente è lì io pensavo di poterli spostare di là quindi recuperare quei soldi e invece puparo nel senso che è colpa mia insomma non sapevo di questa cosa di conseguenza non l'ho considerata bene va bene così perché comunque non è che sono soldi persi sono semplicemente soldi che stanno sul che poi non sono neanche in azienda di per sé perché siamo più di 50 persone quindi insomma però adesso ho fatto la richiesta per spostarli sul fondo pensione integrativo anziché tenerli in azienda così allora non è che mi faccia impazzire il fondo pensione integrativo cioè in generale i fondi pensione perché sono soldi che tu metti lì dentro però porca troia non riesci a prenderli se tu ne hai bisogno ci sono pochissime necessità con cui pochissime situazioni in cui li puoi prendere cioè sei in prima casa problemi di salute i figli insomma queste cose così ne puoi prendere in parte quindi spostando il tfr lì va bene perché risparmio nel senso che ovviamente non ci pago meno tasse posso detrarre un po' di robe insomma mi va bene però effettivamente sono soldi che una volta messi lì dentro è molto difficile da prenderli quindi insomma non non è che mi faccia impazzire la cosa però per lo meno i 50 euro che gli sto mettendo adesso smetto di metterli dentro e li posso ritenere per fare delle altre cose cioè potenzialmente preferirei comprare altre monete d'oro da tenere in accumulo a quelle che ho già che almeno quelle se mi servono che guadagni e perdi insomma parte questo aspetto qui però oggi mi servono salvo che non sia sabato e domenica vado dal banco metalli e me ricambia insomma subito di conseguenza è quasi come una moneta circolare normale bene e quindi qui questa mio errore molto grave che è un errore di cui devo fare ammenda e ce l'abbiamo poi cosa dobbiamo vabbè per il resto non è cambiato sostanzialmente nulla quindi gli investimenti sempre gli stessi che che stanno andando comunque questo mese si è accumulato 3.247 euro e 5 centesimi perché sono così tanti semplicemente perché ci sono i 3.100 euro che è già da diverso tempo che volevo metterli giù considerate che c'è stato ottobre novembre che sono stati dove non ho messo dentro nulla e quindi si è accumulato semplicemente del tempo che gli ho messi insieme tutti insieme in un'unica soluzione quindi di conseguenza è per quello che c'è questo valore così alto non perché mi arrivano dei soldi così così tanti soldi in un mese nonostante che faccio le trasferte per poterli mettere tutti in un colpo su in investimento però allora che cosa è successo siccome quest'anno è andata molto bene ho voluto aggiungere una colonna dove fa vedere la somma mese per mese che effettivamente ci stava bene sempre come come discorso mese per mese di quanti soldi avevo messo da parte e siamo arrivati in fondo che io quest'anno sono riuscito a mettere in investimento 20.672 euro e 87 centesimi che sono sono parecchi per quanto mi riguarda lo so che ci sono persone probabilmente anche chi guarda tra di voi qualcuno che riesce a farlo anche in un mese perché obiettivamente ci sono persone che riescono a fare dei guadagni molto alti tutti i mesi o per lo meno anche se hanno delle situazioni altarenanti dei mesi in cui guadagnano veramente forte e quindi magari dicono 20.000 euro riesco anche a metterli in un mese io ce l'ho fatta in un anno però contemplate sempre il fatto che sono un operaio quindi è questo il punto che mi dà molta enfasi è anche vero che non sono tutti i soldi derivanti dal lavoro da dipendente perché c'è stata i miei genitori hanno venduto un immobile un negozio un immobile commerciale e siccome li ho aiutati nella vendita tutte quante le transazioni mi hanno aiutato dandomi una parte cioè un gettone diciamo così che comunque è stato estremamente cospicuo perché nel complesso ha inciso circa del 25 per cento su quello che sono riuscito a mettere da parte quest'anno quindi tanta tanta roba che comunque insomma io li ho presi e li ho messi in investimento non li ho spesi per cose che non mi servono bene e così siamo arrivati praticamente alla fine di quest'anno prossimo anno vediamo adesso facciamo un piccolo discorsino sia su quest'anno sia sul prossimo anno allora quest'anno è andata nonostante tutte le crisi eccetera è andata piuttosto bene bene il prossimo anno non la vedo per niente così rosa perché col fatto del 110 per cento e tutto quanto il lavoro che faccio è correlato anche a quello di conseguenza c'è stata una vendita mostruosa l'anno scorso l'anno prima insomma c'è stato un bel un bel movimento il prossimo anno sarà sicuramente molto più scarico di trasferte adesso a parte i primi due tre mesi che abbiamo ancora dei residui dell'anno scorso però per il resto del mese sicuramente si sarà molta più tranquillità e questo sicuramente porterà a un guadagno molto più basso per quanto riguarda il guadagno da dipendente male questo è molto male quindi vuol dire che il prossimo anno farò molta più fatica o meglio sarà praticamente impossibile riuscire ad arrivare alla cifra risparmiata quest'anno vi voglio dare per esempio un paio di dati su quest'anno allora la busta di dicembre non l'ho ancora avuta perché mi arriverà a gennaio io adesso ne sto parlando a dicembre però prendo in considerazione che io quest'anno a gennaio ho preso i soldi della busta di dicembre dell'anno scorso quindi utilizzo quella come riferimento allora io adesso ho un imponibile di 43.090 euro su quest'anno la busta di dicembre dell'anno scorso è 4.031 euro di conseguenza sono arrivato a 47.121 euro diciamo quest'anno fra di imponibile anche se come ho detto non è esattamente corretta la cosa è anche vero che questo mese dicembre ho fatto due trasferte quindi più o meno sarà così adesso 2 3 4 500 euro di differenza to più o meno quindi diciamo che la reputo abbastanza abbastanza veritiera quindi intanto non ho raggiunto la soglia mistica dei 55 mila euro quelli che sono il gradino più alto della piramide della piramide economica quella che l'ho già parlato in un video vabbè non che serva non cambia assolutamente niente arrivare lì anzi sono molto contento di essere arrivato a questa cifra perché 47 mila euro di lordo è una cifra che farebbe invidia anche a molta gente che lavora a Milano avendo visto insomma molte molte persone che parlano del loro rally annuale che intorno i 30 35 mila insomma vuol dire aver fatto un 30 per cento in più rispetto a chi sta in una città insomma molto più cara rispetto a quella dove sto io non che sia esageratamente più economica perlomeno per quanto riguarda gli immobili però per il resto sicuramente ha molti più vantaggi quindi questo è un po il resoconto degli investimenti di quest'anno diciamo che sono abbastanza contento o meglio sono parecchio contento insomma quindi l'investimento c'è stato c'è stata continuità non mi sono perso in cose particolari mi sono concesso i miei sfizi anche perché ovviamente quando sei in trasferta non ti compri niente non hai nulla non hai modo di spendere i tuoi soldi quindi in realtà li accumuli anche per questo è facile sicuramente quando sono dentro non facendo trasferte sarà tutto molto più difficile e sarà la difficoltà che trovano tutte le persone che provano a fare gli investimenti hanno difficoltà per il fatto che sono a casa e qualunque cosa una distrazione ogni volta che esci devi spendere dei soldi lo so e quindi mi ritroverò anch'io di nuovo in quella situazione se non dovessi fare molte trasferte cercherò insomma di risolvere un po questa parte allora non ho parlato del canale perché farò un video specifico su come è andato quest'anno il canale e nella quale sono per quanto sia abbastanza contento rispetto all'anno scorso l'aspettativa che c'era l'anno scorso mi ha mi ha tagliato le gambe nel senso che me ne parlo nel video del inerente al canale però diciamo che sono sono contento per come si sta sviluppando insomma tutto tutto quanto e anche con la community insomma che si sta piano piano creando e le persone insomma che stanno facendo commenti quindi di questo vi ringrazio auguro un buonissimo anno nuovo a tutti che sia proficuo che sia felice e che vi possa permettere di guadagnare o comunque di fare quello che vi piace fare ciao a tutti e buon anno